Allora, hai una bella pallina. Tutto. Tieni, una pallina. Fai biscotti Francesco? Ti faccio una bella pallina. E' così da forza. Ma anche mamma e papà. Mamma e papà vogliono fare un panino. Un panino? Sì. Tu non sei capace? Eh no. Io ho fatto un panano. Io ho fatto una pizza giallo. Qua la pallina, vedi che bella? Sì. Ma non è un panino. Come la fai la pizza, Gaia? Non ho capito come fai la pizza. Eccola, vedi? Quello che è, è un paninole. Mamma, metti la fuori.